A casa tua senza dover uscire L'erboristeria Essenza desidera far sapere ai suoi clienti Che in questo periodo di emergenza Continua il suo lavoro per stare vicina alle persone Con tanti consigli professionali E con una grande varietà di prodotti Per la bellezza e per la salute Consegne a domicilio Prodotti selezionati con armonia e creatività Per dare equilibrio e benessere alla persona Nel rispetto della natura Prodotti per la cura delle mani Confezioni regalo e una nuovissima linea di eccellente qualità I colori dell'orto Erboristeria Essenza Via Massetana 3, Rosia Telefono 0577-165-7152 Oppure 333-6540-315 Erboristeria Essenza vi aspetta con il sorriso Anche noi!